E' partita dalla laccata la campagna elettorale di Antonio Pratico e della sua lista Mare Praia, che ha aperto ufficialmente la fase calda della competizione, quella dei commizzi. Sabato scorso infatti il candidato sindaco, nonché attuale consigliere comunale di minoranza, ha incontrati residenti illustrando loro buona parte del programma messo in piedi dalla compagine. Turismo, infrastrutture, riqualificazione del patrimonio esistente, creazione di nuovi centri di aggregazione, politiche per i giovani. Si è discusso di questo, ma non sono mancati anche momenti di approfondimento, visto il supporto tecnico dell'architetto Rocco Gallico, che ha parlato nello specifico di realizzabilità delle opere. Oltre al candidato sindaco, Antonio Pratico sono intervenuti brevemente i candidati alla carica di consigliere comunale Rosacei e Antonino De Lorenzo. Domenica 15 aprile, invece, sarà la volta del candidato sindaco dell'alternativa Giacomo Bello, che sarà in Piazza Italia di Praia Mare e della lista Futuro Praia del candidato sindaco Gino Spolito. Bisognerà aspettare questa sera, invece, per sapere le date dei commizi della lista Uniti Rilanciamo Praia del candidato sindaco Pietro De Paola. Nel pomeriggio, infatti, si riunirà la commissione politica del gruppo, che provvederà a stilare l'intero calendario degli incontri. Si scaldano i motori, quindi, per l'ultima fase della competizione politica, che si chiuderà con il voto del 6 e 7 maggio. Con la definizione delle liste elettorali è finita anche la fase delle polemiche tra i candidati. Comincia adesso la propaganda. Quattro le liste in corsa, 44 candidati, obiettivi il consenso del popolo.